... Pensate che sono in 60.000 al San Paolo. Aurelio appena ha visto che il gilone era difficile, da grande uomo ha pensato bene che ci voleva un rinforzino. Aurelio, dico questo nome che è veramente importante per noi, signori, lui viene da Milano, o milanese, il milanese è un po' più freddo, no? Noi sappiamo che un napoletano è d'accordo, noi per esempio i nomi li utilizziamo poco perché a noi ci basta dicere fra, frate, fratello, frataccio, fratami o frate tu, compagnami, compagnolo meglio, compagnami, compagnolo meglio, compagnolo, frato cucinolo, compagnamiglia. Quando chiamiamo una persona, a Milano sono un po' più freddito, per adesso lo accogliamo come se fosse veramente un napoletano. Kung Fu Pandev! Con il numero 29, Conan Pandev! Dunque, completo momento della presentazione della squadra con Pandev che era il più atteso, noi però restiamo con le immagini qua, tra poco vi preannuncio che vi faremo vedere anche tutti i gol della Serie B, però gustiamoci ancora queste immagini. Allora, lo saluto poi, lascio la parola ad Aurelio. Caro Pandev, noi teniamo questo nostro mister che quando sta in mezzo al campo e ci crede nella partita, si toglie la giacca, si toglie la camicia. Io mi auguro che quest'anno insieme a te rimana camutante all'infradito. Grazie! 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 Grazie!